La maratona mentana è diventata un appuntamento fisso per le elezioni. Questa volta sulla set, il noto giornalista ha seguito la gara tra Donald Trump e Kamala Harris. Durante la diretta notturna telecamera ha mostrato in diretta nazionale una conversazione tra Mentana e Aldo Cazzullo, inviato a Palm Beach per il quartier generale di Trump. Il numero di cellulare di Cazzullo è stato mandato in onda insieme a un messaggio ironico che ha fatto il giro del web in pochi secondi. La chat WhatsApp tra Mentana e Cazzullo ha rivelato un commento pungente di quest'ultimo su Kamala Harris, definendola la casellati nera. Mentana ha risposto in modo scherzoso, ignaro di ciò che era appena accaduto. Selvaggia Lucarelli ha notato subito l'episodio e ha condiviso lo screen su Instagram commentando l'iconicità della scena. Aldo Cazzullo non si aspettava di finire al centro dell'attenzione nazionale, definendo Maria Elisabetta Alberti Casellati come la versione nera di Kamala Harris. Tutto può succedere durante le maratone Mentana e questo episodio ne è la prova vivente. Come reagirà Casellati e cosa dirà Cazzullo al riguardo? La gaffe durante la diretta ha portato alla luce un momento imbarazzante e divertente allo stesso tempo, coinvolgendo personaggi di spicco della politica e del giornalismo italiano. La maratona Mentana continua a regalare sorprese e momenti esilaranti, tenendo incollati gli spettatori davanti alla... Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!